Il comportamento umano è un comportamento economico. I particolari possono variare, ma la concorrenza per delle risorse limitate resta una costante. La necessità, così come l'avidità, ci ha seguito fino alle stelle e le ricompense della fortuna attendono ancora coloro che sono abbastanza saggi da riconoscere questo ritmo profondo delle nostre pulsazioni comuni. Capo dell'esecutivo Nuoabutiche Morgan, il monopolio Centauri.